Sciolto, braccia in lì, spada, lo serve fare adduzione del scappo, lo serve fare adduzione del scappo, ma semplicemente il normale, lo serve andare dall'orsale della scappa, cioè la testa non è d'accordo, da questa fase faccio lentamente, braccia si stacola con l'antimiglia e lo faccio leggero assieme, lì, spinge l'altra, oh, sono qui, nuovo, oh, oh, questo movimento, oh, guarda più vicino, oh, può essere con strappo, stessa cosa, oh, scende, oh, gambe, gambe, stendo la lombare dalla scappetta, gambe dalla scappetta alla lombare, però hanno finta le foglie, tutto insieme, che non vale si estende, che gambe spingono poi indietro, e questo movimento è molto efficace, molto molto efficace per fare un gesto grande, e braccia semplicemente, isometricamente, un lavoro isometrico fisso qui, basta tenere peso, tutto il resto è dinamico per le gambe della scappetta, e questo è tutto per far nuovare a casa, posto?